... Ritorno alle giornate del FAI di primavera, un patrimonio culturale da riscoprire? È un patrimonio da scoprire in Canavese e in tutta Italia per valorizzare quello che è la nostra identità in termini di passioni per il paesaggio, per l'arte e per questi tre luoghi a Pont Canavese che apriamo anche se certamente per alcuni non sono sconosciuti ma vogliono testimoniare la passione che i grandi visitatori in tutta Italia di queste giornate FAI di primavera dimostreranno nel venire in Canavese e verso queste valli che sono veramente di grande qualità e di bellezza straordinaria. È grande l'impegno del FAI a livello nazionale per il recupero del patrimonio e sono tantissimi comunque i beni aperti e i volontari che si impegnano? I volontari sono più di 7 mila con 190 mila iscritti al FAI che progressivamente stanno crescendo di anno in anno, ci sono più di 60 beni di proprietà ed è una realtà in termini di fondazione per l'arte e per il paesaggio che non ha paragoni in Europa e testimonia la qualità e l'interesse degli italiani e soprattutto dei giovani a cui va il nostro ringraziamento più sincero soprattutto nei confronti delle scuole e degli apprendisti ciceroni che verranno in quei due giorni a spiegare quello che il pubblico ora dopo ora scoprirà in Canavese. Cosa si potrà visitare il 23-24 marzo qui in Canavese? In Canavese apriamo quattro luoghi, cominciamo da lontano, siamo a Settimo Vittone dove apriamo come consuetudine la pieva di Settimo Vittone, la pieva di San Lorenzo che comunque sarà aperta poi tutto l'anno, tutte le domeniche fino alla fine di ottobre, mentre invece quest'anno ci concentriamo su Ponte Canavese dove apriamo tre luoghi che diciamo si distribuiscono in tutto il territorio, il centro di Ponte, il polo museale dei ex Sandretto dove c'è il museo della plastica e altri due musei collaterali. Mentre oltre Soana siamo alla chiesa della Santa Maria di Doblazio dove oltre alla chiesa i nostri volontari giovani, gli apprendisti ciceroni delle scuole superiori ci illustreranno gli affreschi e tutta la complessità architettonica dove in particolare si potrà vedere l'ossario. Invece tutto dall'altra parte, oltre Orco, quindi copriamo veramente tutto il territorio, apriamo la centrale idroelettrica dell'Iren che fa parte del sistema delle centrali idroelettriche della Valle dell'Orco che con cinque centrali e sette bacini idroelettriche, quindi con diga parte dall'altezza di 2400 metri per arrivare qua a Ponte a 400 metri di altezza. Questa centrale non è mai stata aperta al pubblico perché a differenza della centrale di Rosone, quella in posizione centrale della Valle dell'Orco è molto più ampia e storica. La centrale di Ponte invece è un po' più piccolina, un po' fuori mano, anzi in una zona dove non batte quasi mai il sole in tutto l'anno e quindi normalmente non è aperta alle visite di scolaresche, pubblici eccetera. Noi in questa occasione appunto la apriamo al pubblico che sarà una grande occasione per vedere questi luoghi solitamente chiusi anche perché sono dei luoghi di lavoro, a differenza, diciamo a completamento del polo museale apriamo anche un luogo di lavoro attivo, funzionante. A chiusura di queste due giornate nella centrale ci sarà un concerto del trombettista Ramon Moro, un trombettista che è in solo ma accompagnato da strumentazioni elettroniche molto particolari, riempie un ambiente così ampio come quello della centrale con delle sonorizzazioni ambient e un po' dark. Vi aspettiamo quindi per sabato 23 e domenica 24 dalle 10 alle 17.30 a Ponte e a Settimo Vittone. Grazie. Grazie.